Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale. In apertura siamo a Pescara, alla presenza di Lorella Cuccarini. Inaugurato questa mattina il secondo alloggio Agbe. L'edificio è stato intitolato al professor Torlontano. Vediamo. L'Agbe, l'associazione genitori bambini emopatici, da oggi disporrà di un secondo alloggio destinato proprio alle famiglie dei piccoli pazienti affetti da leucemia e tumori solidi ed in cura presso l'ospedale civile Santo Spirito di Pescara. Il secondo edificio arriva a 13 anni dopo l'inaugurazione del primo ed entrambi si trovano a poche decine di metri dal nosocomio. 43.000 le presenze registrate in casa alloggio dal 2009 con pazienti e relative famiglie provenienti da tutto il mondo. Rendere in realtà questo sogno è stato possibile anche grazie all'aiuto di 30 Ore per la Vita. Noi abbiamo toccato con mano con 30 Ore per la Vita invece una grande partecipazione, un grande desiderio di partecipare attivamente alla realizzazione di progetti. Ogni volta che veniamo qui a Pescara, insomma questo oramai è un sodalizio che va avanti da moltissimi anni. Abbiamo cominciato nel 2003 con la realizzazione del primo reparto coematologico pediatrico, poi con la prima residenza che insomma adesso è attiva già da molti anni e adesso appunto la nuova casa per cui siamo molto felici e naturalmente insomma speriamo che questo sodalizio continui nel tempo perché Pescara sta diventando veramente un punto di riferimento per tutto il centro sud Italia. La casa in via Corno Grande porterà il nome di una figura di grande rilevanza umana e professionale, ovvero il professor Glauco Torlontano, medico eccellente e uomo di scienza, considerato pioniere dei trapianti di Midollo. E' lui che ha portato avanti il nostro reparto dal 73, non so se tutti lo ricordano, dal 73 è stato il primo che ha fatto il trapianto di Midollo Rossio qui a Pescara, un centro d'eccellenza, io approfitto anche della dottoressa Veri per ricordare che abbiamo veramente un centro d'eccellenza, io che giro tutti gli altri centri, anzi qui abbiamo anche il presidente della FIA che può confermare, sicuramente questo centro va rafforzato perché devo dire che questa casa poteva essere pronta già da due anni, un po' per la madre mia, un po' perché abbiamo dovuto dare una grossa mano al reparto e quindi abbiamo dovuto rallentare, però ci tengo a dirla, ce l'abbiamo fatto lo stesso perché noi siamo un'associazione di genitori, è un'associazione che vuole bene al territorio, vuole bene ai nostri bimbi e il nostro reparto è un reparto, ribadisco, d'eccellenza e va supportato. L'Abruzzo ha per la prima volta superato il 5% di territorio alterato ed è tra le regioni con la peggior performance di consumo di suolo tra il 2020 e il 2021, a dirlo l'annuale rapporto ISPRA sul consumo di suolo diffuso oggi a Roma, in termini di incremento percentuale, si legge nello studio, rispetto alla superficie artificiale dell'anno precedente, il valore più elevato è quello dell'Abruzzo, più 0,78%, tra le regioni la densità del consumo di suolo è più alta in Abruzzo, 3,88 metri quadrati per H.A. Veneto, 3,73 metri quadrati per H.A. e poi Lombardia e Campania. Sul fatto duro il commento del forum H2O. Si continua a massacrare il territorio come se nulla fosse, basta vedere il nuovo PRG di Ortona con decine di ettari di cementificazione, serve legge senza scappatoie per consumo di suolo zero e rinaturalizzazione. L'Abruzzo, una regione montagnosa e con bassa densità di abitanti, ha consumato complessivamente ben 54.210 ettari di suolo fino al 2021, tra il 2020 e il 2021, questo dato in aumento di ben 418 ettari, pari a oltre 500 campi di calcio. Tra le province spicca quella di Chieti con 171 ettari di suolo consumato in più, seguita da Teramo con 96 ettari, Pescara con 84 e l'Aquila con 66. Cambiamo argomento. Nonostante i tanti emendamenti presentati dalle forze di opposizione, il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato questa mattina la modifica dello Statuto di Ambiente S.P.A. Le reazioni degli schieramenti politici. Ha approvato questa mattina in Consiglio Comunale la modifica allo Statuto di Ambiente S.P.A. Gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle e PD non hanno impedito alla maggioranza di raggiungere l'obiettivo. Con questa modifica su 5 consiglieri, 3 saranno scelti dal Comune di Pescara, detentore dell'84% delle quote. L'altro andrà al Comune di Città Sant'Anceno e l'ultimo per i comuni più piccoli. Oggi partecipano al Comitato, partecipano, ne fanno parte tutti i rappresentanti dei comuni che hanno una quota, almeno una quota all'interno della società ambiente. Mentre con questa modifica, che è importante perché il Comitato di Controllo sapete l'importanza che ha all'interno della società partecipata, con questa modifica si vuole fare in modo che facciano parte di diritto del Comitato di Controllo solo quei comuni, quei rappresentanti dei comuni, il sindaco del Comune o i suoi delegati, che danno il servizio alla società ambiente. Comunque ci sia quantomeno un tavolo di condivisione con i sindaci degli altri comuni soci perché questa scelta non passi come una scelta prevaricatrice del Comune di Pescara che ha voluto imporre questa presenza maggioritaria, questo vero e proprio monopolio all'interno del CdA. E' giusto comunque coinvolgere gli altri comuni anche in questa fase, anche e soprattutto i comuni di Montesilvano e Spoltore proprio nell'ottica appunto della prossima fusione della nuova Pescara che quindi non può certo prescindere dal coinvolgimento di questi comuni nella distribuzione di forze della gestione del Consiglio di Amministrazione di Ambiente S.P.A. Mentre sulla nascita del biodigestore a Città Sant'Angelo maggioranza e opposizione rispondono così. La nostra preoccupazione va anche in questa direzione perché questo nuovo comitato a nostro avviso non sarà in grado di garantire davvero l'interesse pubblico. Qualora un sindaco in questo caso di Stato Sant'Angelo non dovesse essere d'accordo ha tutto il potere per bloccare qualsiasi tipo di iniziativa però io non credo che questo possa accadere nel caso specifico perché riteniamo tutti quanti che il biodigestore sia importante per migliorare il servizio e soprattutto per diminuire i costi del servizio per i cittadini. Voltiamo pagina e siamo al bollettino Covid Sono 333 i casi positivi registrati oggi in Abruzzo sono emersi dall'analisi di 2.117 tamponi molecolari e 12.039 test antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 44.807 dimessi guariti 12.354 in più rispetto a ieri numero elevato dovuto a riallineamenti degli ultimi giorni gli attualmente positivi in Abruzzo sono 45.427 di questi 285 pazienti più 10 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica 11 più 2 rispetto a ieri in terapia intensiva i restanti invece sono in isolamento domiciliare Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 3.446 Del totale dei casi positivi 549 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila 1.009 in provincia di Chieti 809 in provincia di Pescara 775 in provincia di Teramo 98 fuori regione e 93 per i quali sono in corso Verifiche sulla provenienza Restiamo in ambito sanitario Ieri con una nota la ASL di Teramo ha annunciato che in tempi brevi assumerà i 22 vincitori del concorso per os dello scorso novembre i quali hanno comunque manifestato questa mattina davanti all'ospedale Mazzini di Teramo ora confidano che si proceda con passi concreti Vediamo E' stato un concorso lungo Ieri Teramo ci ha incontrato in un tavolo tecnico ha incontrato i tre rappresentanti delle tre ASL di riferimento di questo concorso Teramo ha preso una posizione quindi ha intenzione comunque di assumere i 22 posti messi a bando per quanto riguarda la ASL di Teramo Altresì confermato di aver inoltrato le graduatorie delle altre ASL di riferimento nelle sedi competenti Quindi comunque chiediamo a gran voce che anche le altre sedi procedano come ha fatto Teramo Siamo delle figure cardine perché comunque se avete letto giornali, sentito, proteste da tutte le parti C'è bisogno di noi C'è bisogno di noi a gran voce Ci sono doppi turni, salti delle ferrie Più si legge questo e più si alza la protesta Perché il personale che vuole lavorare c'è Quindi basta riconoscergli questo I problemi potrebbero anche essere risolti Quindi diminuire le liste di attesa Riportare la sanità nella nostra regione Perché incrementando i servizi con il personale annesso Si ria comunque la centralizzazione di quello che è una ASL che funziona Ha fatto acqua da tutte le parti ma in realtà funziona È una bella realtà Ve lo dice una che lavora al nord Quindi è una bellissima realtà Basta solo ritrovare la giusta strada per poter arrivare a tutto questo Quindi sì, noi siamo pronti Siamo qui che aspettiamo e siamo pronti Cambiamo argomento Il senatore Luciano D'Alfonso ha illustrato i tratti salienti della riforma della giustizia tributaria Alla quale ha lavorato la sesta commissione che presiede in Senato Una riforma ha spiegato D'Alfonso che l'Europa ci chiede con forza Andrea Costantini Ben che le camere siano state sciolte ci sono lavori che possono arrivare a compimento Tra questi la riforma della cosiddetta giustizia tributaria all'esame della sesta commissione finanze e tesoro del Senato Presieduta da Luciano D'Alfonso È la riforma di ciò che più incide nella vita di chi produce ricchezza in Italia Di chi adempia gli obblighi dell'articolo 53 della carta costituzionale Noi abbiamo in Abruzzo per esempio un monte di contenzioso tra commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado E poi tutto quello che si mobilita in Cassazione che è pari per numero a 3.000 istanze l'anno di contenzioso tributario Per un valore di circa 10 miliardi di euro di oggetto di contenzioso Da oggi la riforma sarà al Senato, diversi punti salienti tra cui l'assunzione tramite concorso per esami di 567 magistrati tributari a tempo pieno tra il 2023 e il 2030 L'autonomia e indipendenza del giudice tributario, l'accesso al concorso anche per i laureati in economia Lo spostamento dell'onere della prova dal contribuente all'amministrazione finanziaria Pace fiscale sostenibile con lo stralcio di 50.000 liti assai risalenti pendenti in Cassazione L'assegnazione di un bolino blu ai contribuenti virtuosi che avranno una premierità fiscale Il reclamo e la mediazione come istituti tendenti a ridurre i contenziosi L'introduzione anche in Cassazione di una sezione specializzata tributaria che ora manca Insomma sarà un lavoro che faremo a più mani con ragionevolezza Perché sappiamo che è una grande questione della libertà, della democrazia di questo Paese Ci lavoriamo organizzando una genitorialità diffusa dei meriti riguardanti la fondamentalità di questa riforma Che è attesa anche nei rapporti con l'Europa L'Europa ci ha posto questo obiettivo come uno degli obiettivi fondamentali del patto Sarà il Festival della Montagna più a sud d'Europa e si svolgerà a fare a San Martino in provincia di Chieti Dal 29 al 31 luglio, una tre giorni per rilanciare il ruolo della montagna come fattore di attrazione a tutti i livelli Il Festival della Montagna sarà l'appuntamento estivo dell'anno Tre giorni di eventi gratuiti che intercettano i desideri di tutti attraverso lo sport L'esplorazione, la musica, lo spettacolo, le visite guidate, le attività per famiglie e le tavole rotonde Il tutto si svolgerà nello splendido scenario di Fara San Martino nel cuore del Parco Nazionale della Maiella Geoparco Mondiale dell'UNESCO, uno dei luoghi emblema del territorio abruzzese Tra gli eventi in programma dal 29 al 31 luglio ci sarà la Sky Race Extreme La corsa di 29 chilometri che connette il centro del Paese al Monte Amaro La seconda vetta più alta della catena appenninica Un evento che vuole rilanciare il ruolo della montagna e lo fa attraverso la sua parte Protagonista del Parco Nazionale della Maiella, Fara San Martino Che cede oltre il 90% del suo territorio al parco Che è titolare della vetta della Maiella a 2795 metri Quella vetta che noi raggiungeremo in uno degli eventi di questo Festival della Montagna Che è la Xtreme, cioè una gara extrema che porterà gli 80 partecipanti a un successo incredibile come prima edizione Da Fara San Martino a Montamaro il ritorno in massimo 10 ore Tra le iniziative in programma non solo sport ma anche passeggiate per diversamente abili Visite guidate dentro le viscere della montagna, passeggiate nel borgo e presso il monastero di San Martino in valle Si terranno inoltre dei laboratori sulla geodiversità e biodiversità e dibattiti che toccano i vari ambiti del tema della montagna Oltre alla buona musica Una possibilità in più per questi territori è la garanzia di un indotto economico, sociale e turistico Di cui questi territori hanno enormemente bisogno È l'infa vitale che viene garantita e noi dobbiamo avallare questo sentimento positivo di vita che viene dal territorio Ci spostiamo nel capoluogo teatino al lavoro alla commissione speciale preseduta dal consigliere comunale di Chieti Vincenzo Ginefra Per la realizzazione del raddoppio ferroviario Pescara Roma Si continua a lavorare per studiare una variante al progetto di RFI che eviti l'abbattimento di molti edifici E sia il meno impattante possibile anche per il tratto di Chieti Scalo Oggetto della riunione odierna Sedegna Secondi Scongiurato l'abbattimento delle case a Brecciarola Adesso si sta lavorando invece su quale altro fronte? Innanzitutto su Brecciarola abbiamo messo in campo tutti i provvedimenti possibili Anche una delibera di consiglio comunale votata in unanimità Prodotta dalla commissione speciale proprio per il doppio della ferrovia Da me preseduta Che però è trasversale e rappresenta tutto il consiglio comunale senza colorazione politica L'abbiamo scongiurato perché abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare per bloccare la conferenza di servizi Per quello che riguarda il lotto 1 Che è il lotto PNRR che passa da Brecciarola e si conclude a Manoppello Quindi abbiamo poi presentato una variante che viene detta variante dei cittadini variante plus Che sostanzialmente bypassa Brecciarola Ora stiamo con la commissione elaborando tutte le condizioni necessarie Per scongiurare tutte le situazioni negative su chi di scalo Quindi da San Martino a Brecciarola Quindi il tratto che passa proprio nel centro di scalo I comitati però dal canto loro in particolare per voce della Presidente Paola Sablone Continuano a dire no a questa variante Certo, dal punto di vista dei comitati Io non li condivido né li ostacolo Se invece dobbiamo essere realistici e dobbiamo comportarci da amministratori Dobbiamo dire che dobbiamo ottenere la possibilità di avere questo progetto per la città In una posizione che non dia fastidio alla città stessa Quindi il problema non è non farlo ma farlo bene E giorni fa a Dovindoli un uomo ha minacciato in strada gli automobilisti con un macete I carabinieri di Avezzano sono intervenuti con il taser dell'utilizzo di quest'arma Prima volta nell'Aquilano ha parlato il comandante della locale compagnia dei carabinieri Vediamo Esattamente una settimana fa nella piccola frazione di San Potito a Dovindoli I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Avezzano Sono dovuti intervenire dopo la segnalazione al 112 Per sedare un uomo in evidente stato di alterazione e agitazione Che armato di macete minacciava gli automobilisti di passaggio Nella frangente il soggetto ha appena visto l'arrivo della pattuglia radiomobile Con il macete si è scagliato contro i militari operanti Minacciandoli di morte Più volte il capo equipaggio ha intimato al soggetto di riporre l'arma a terra Senza ovviamente alcun risultato positivo E in questo caso quindi è stata esplosa una cartuccia con il taser Il taser è classificato come un'arma propria Quindi per l'utilizzo devono ricorrere quello che è previsto dall'articolo 51, 52 e 53 del codice penale Quindi esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa e uso legittimo delle armi In questi frangenti e con queste procedure può essere utilizzato il taser Così come è avvenuto effettivamente a San Potito, nella frazione di San Potito In quanto il soggetto minacciava gli operanti con un macete Che in questo caso comunque è un'arma a tutti gli effetti La lunghezza è di 75 cm Quindi creando problemi di incolumità sia agli operatori che agli automobilisti in transito sulla 696 Nella pratica come funziona? Qual è l'effetto? Allora, il taser si compone di due cartucce Ogni cartucce all'interno contiene due tardi Quindi l'operatore si mette a una distanza tra i 3 e i 5 metri Ed esplode la prima cartuccia dove escono questi due tardi Collegati con la pistola taser con dei fili conduttori Nel momento in cui il soggetto è stato attinto dai due tardi L'operatore attraverso un tasto, si chiama tasto arc Dà la prima scarica praticamente Che immobilizza il soggetto Consendendo praticamente all'altro operatore di ammanettarlo in tutta sicurezza Subito dopo l'arresto è stato attivato anche il protocollo sanitario È intervenuta un'ambulanza del 118 Il taser è un'arma che non provoca alcuna conseguenza fisica La persona non ha avuto alcun problema di salute Dopo essere stato toccato dai dardi elettrici Torniamo a Pescara dove è stata rinviata l'approvazione sul risanamento acustico di Piazza Muzzi Luogo della movida pescarese Da un lato le richieste dei residenti Dall'altro la volontà dei commercianti Vediamo Evitare quello accaduto a Torino di recente o in altre città d'Italia Dove per mettere fine alla movida rumorosa Sono intervenuti i giudici costringendo i comuni a mettere ordinanze sulla chiusura dei locali La maggioranza del comune di Pescara non vuole arrivare a questo Lo ha ribadito questa mattina il capogruppo della Lega Vincenzo Dincecco Durante il consiglio comunale che all'ordine del giorno prevedeva l'approvazione del piano antirumore Il piano di risanamento acustico è semplicemente un elenco di azioni Volte a limitare o comunque a cercare di risanare Come dice il termine Quello che accade in una zona e che porta quindi in quella zona A un costante superamento di decibel Che creano disturbo Non solo disturbo ma possono creare anche danni alla salute È un dato accertato dalla norma Quindi noi siamo costretti ad operare da questo punto di vista Negli anni passati tutto ciò non è accaduto Non è stato fatto nulla in tal senso E si è andati verso una deregolarizzazione costante Noi ci troviamo all'angolo costretti a affrontare il tema Con la giusta saggezza di chi sa che governare Significa anche affrontare soluzioni mai risolte per anni Non perché siamo contro qualcuno o qualcun altro Ma perché dobbiamo andare incontro a quelle che sono le normative Che ci prescrivono di operare in questo senso La maggioranza attacca i problemi c'erano già quando l'attuale minoranza Era allora che governava la città Sì c'erano già prima questi fenomeni di contrasto tra chi vive e chi risiede Purtroppo negli ultimi tre anni non c'è stato un fenomeno invece di risanamento Che doveva essere fatto con ad esempio una punizione degli esercenti che non rispettano le regole Con delle azioni anche di contenimento e di nuove aperture Invece le aperture sono state consentite, autorizzate fino a poche settimane fa Quindi non si può dire che tutto nasce quando c'era la vecchia amministrazione Perché in realtà in questi tre anni il problema è continuato così come era stato gestito prima Nel bene e nel male Il problema è che con questo strumento che si propone oggi Sostanzialmente si va soltanto a punire gli esercenti che rispettano le regole Senza dare alcuna prospettiva di risanamento vero Se si deve parlare di risanamento della zona Noi crediamo che sia necessario invece un progetto condiviso a monte Tra residenti ed esercenti finalmente per dare una stabilità a tutta la zona Perché in questo modo con questi strumenti si continua a fare la guerra civile Che noi non vogliamo La pagina degli eventi è partita ieri la settimana dei murales ad Zinano Frazione di Stossicia Dove torna per la 22esima edizione I muri raccontano spazio alla fantasia, all'arte e alla buona musica Vediamo Quest'anno ritornerò ancora una volta i muri raccontano Dal 24 al 31 ci saranno due nuovi pittori Amedeo Marchetti e Valbusa Damiano di Sirmione E lasceranno anche quest'anno due nuovi dipinti, due nuovi murales Dedicati comunque sempre al tema originale I giochi di una volta Naturalmente il programma non finisce qua Ci saranno anche aspetti musicali e ci sarà anche un aspetto culturale con la presentazione di un libro Quest'anno parecchie iniziative a Tossicia sono ripartite, anzi quasi tutte sono ripartite Azzinano è una di quelle di maggior risalto culturale È la 22esima edizione Quindi ogni anno la Proloco presenta questa manifestazione Le pareti sono quasi tutte occupate Quindi è una cosa veramente bella È bella anche vederla di sera perché è parzialmente illuminata Noi puntiamo molto su Annunziatina Scipione per quello che ha fatto e per quello che sicuramente ci darà Tossicia Successivamente riapriremo anche il Museo delle Acreste e Tradizioni Dove sono 22 opere che sono state donate da Annunziatina Scipione E quindi diciamo per noi è veramente come cultura è un riferimento importante Per l'Abruzzo e credo che ultimamente faremo una mostra anche in Argentina Quindi ormai è di dominio mondiale La pagina degli eventi ci porta a Pescara Perché proprio al Pescara Jazz La tappa del tour, la versione di Fiorella Mannoia Sabato scorso con i brani più celebri della cantante romana Molto attiva anche sul sociale Attesa per stasera per l'esibizione di Noa La splendida voce di Fiorella Mannoia ha incantato gli appassionati nel concerto Tenuto lo scorso fine settimana al Teatro d'Annunzio Nell'ambito della rassegna Pescara Jazz Serata aperta dall'ultimo successo dell'artista Padroni di Niente Ma spazio anche ai brani più celebri del repertorio Da quello che le donne non dicono a Come si cambia Dai treni a vapore a Il cielo d'Irlanda La versione di Fiorella è stata il nome del tour di Fiorella Mannoia Prendendo spunto anche dal programma che l'artista ha condotto su Ray 3 Non sono mancati riferimenti al tema dei migranti Molto caro alla cantante romana da sempre vicina ai problemi delle donne africane Cenni anche alla guerra in Ucraina Numerose le iniziative benefiche che ha promosso con delle raccolte fondi per enti e fondazioni Giocando Una partita di scacchi tra il nero ed il bianco Il nero ed il bianco Grande attesa per il concerto di questa sera sempre per il Pescara Jazz Con l'esibizione di Noa Star internazionale della stagione per lente manifestazioni pescaresi Sul palco con lei anche Gildor, direttore musicale e chitarra Ruslan Sirota al piano Omri, Abramov, Sax ed Ewi Siamo adesso giunti alla pagina dello sport Sul fronte mercato del Pescara Ha ufficializzato l'arrivo dalla Virtus Verona di Pellacani Che domenica ha giocato la parte finale dell'amichevole Quello del portiere Alessandro Pizzari dal Milan Ufficiale anche la cessione in prestito di Nicolás Belloni Al Potenza tra i volti nuovi di questa stagione C'è l'attaccante Facundo Lescano Che ascoltiamo Lescano, hai voluto fortemente questo approdo a Pescara Come mai? Sì, sicuramente è stata la mia prima scelta E anche avevo la possibilità di scegliere quest'anno Che questo comunque è una fortuna per un calciatore Ma penso che quando ti chiama una squadra grande come il Pescara Così storica Non ci si può pensare su Infatti avevo questo desiderio anche da qualche anno Quindi per me è stata una scelta subito voluta fortemente Tre stagioni in doppia cifra È un momento di grande maturità questo per te? Sì, sì, sicuramente i numeri nel calcio contano Parlano da sé Io penso che a 25 anni come ho adesso Il calciatore, soprattutto la prima punta Comincia a avere consapevolezza dei propri mezzi Comincia a avere anche un'esperienza dopo 7, 8, 9 campionati in Lega Pro Quindi penso che adesso arrivo a Pescara nel momento giusto E spero di poter continuare così a migliorarmi Curiosamente prima abbiamo sentito Milani Ora te entrambi avete fatto gol al Pescara lo scorso anno Sì, sì, all'andata è finita 2-2 Su una carambola in aria Ho fatto gol e anche il ritorno dopo si deve segnare l'Adriatico E anche lì quando sono venuto a giocare qui Vedendo lo stadio tutto avevo capito che era veramente una piazza importante E niente, ora spero di fare gol alle altre C'è una staffetta argentina nel tuo ruolo Perché qui c'era Franco Ferrari che ha fatto benissimo E ora tocca a te Hai un po' paura di raccogliere questa eredità o ti stimola? No, sicuramente con Franco sono anche amico Un bel rapporto con lui Mi ha parlato benissimo del Pescara Ci siamo visti anche adesso prima che lui andasse a Vicenza No, sicuramente penso che Franco ha fatto benissimo Ma io vado avanti per la mia strada Sicuramente tutti i calciatori hanno degli alti e bassi Quindi io penso che qui farò la mia strada Spero di fare bene Magari come lui di più Ma io penso che adesso lui è a Vicenza E io adesso devo pensare al Pescara Da un punto di vista tecnico Predirigi giocare in un attacco a due magari con un trequartista O con un tridente dove tu sei la punta centrale e ci sono due sterni? Sì, io due anni fa giocavo 3-5-2 con due punte Lo scorso anno con il trequartista le due punte Adesso in ritiro siamo da una settimana Abbiamo cominciato a giocare davanti insieme anche a Cuppone Quindi sì, mi piace con l'altra punta Che magari è un po' più mobile rispetto a me Perché anche quando si va a riempire l'aria Più attaccanti, più centrocampisti arrivano meglio è Però mi adatto anche a giocare da solo Sono uscite nel tardo pomeriggio di ieri Le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI Che ha rigettato il ricorso del Teramo contro l'esclusione dalla Serie C I legali del club Cesare Di Cintio e Federica Ferrari Sono al lavoro per presentare già oggi ricorso al Tarlazio Il primo step è l'istanza di sospensiva sui provvedimenti di ripescaggio Che saranno deliberati nel Consiglio federale Previsto per dopodomani alle 11 Tempi dunque strettissimi E in caso non vi sia una pronuncia in tal senso L'auspicio dei legali del club è di ottenere la sospensiva Dei calendari prevista per il 2 agosto O l'inserimento delle lettere al posto delle due ripescate Anche in questo caso però il fattore tempo Non sembra giocare dalla parte del Teramo Oltre che del campo basso E questa era la nostra ultima notizia I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube O al sito www.tv6.it Prossimo aggiornamento alle ore 23 Grazie per l'attenzione e buona serata Grazie per l'attenzione e buona serata